Buonasera a tutti, grazie di essere qui, finalmente ci ritroviamo di persone non solo attraverso il video, mi fa molto piacere essere qui con voi stasera a parlare di Dante, come sapete tutti oggi è il 14 settembre comunemente si ritiene che Dante sia proprio morto nella notte tra il 13 e il 14 settembre, ieri vi ha parlato il professor Lodo e oggi vi parlo io, facciamo un percorso all'interno della commedia e come filo conduttore io ho identificato questo, così avete un panorama di quello che andrò a dirvi, a leggere i passi danteschi e a commentarli. Dante nel corso del suo viaggio dall'inferno al paradiso si rispecchia in molti personaggi alcuni personaggi della commedia sono di fatto uno specchio di Dante, Dante ritrova alcune caratteristiche di se stesso, della sua vita, di alcuni aspetti, anche dei suoi peccati in alcuni dannati o in alcune anime penitenti che incontra nel suo cammino. E quindi per ogni personaggio vediamo di trovare il perché di questa identificazione. E partiamo da un personaggio notissimo dei personaggi più famosi della commedia che è Francesca da Polenta, cioè Francesca da Rimini. È di fatto il primo personaggio, il primo vero personaggio identificato da Dante. Tra l'altro è il primo personaggio che Dante chiama per nome, perché a un certo punto adesso vedrete in questo dialogo la chiama proprio per nome Francesca, mentre i personaggi che lui ha incontrato prima nei primi quattro canti sono stati solo indicati ma non c'è stato questo colloquio diretto. Il fatto che il primo personaggio identificato sia una donna è già significativo. Sapete che, ma di questo poi non parlerò stasera all'interno del mondo dantesco, le donne, prima di tutto Beatrice, ovviamente sono estremamente importanti, ma non solo Beatrice. Francesca, Matelda, Piccarda, insomma, c'è tutta una serie di personaggi femminili. Ecco, il primo personaggio con cui Dante ha un dialogo è proprio Francesca da Rimini. E adesso io vi leggo i versi, i versi famosissimi, insomma, in cui Dante abbozza questa figura e poi rispetto a questo vi indicherò alcuni punti salienti rispetto al discorso, insomma, rispetto al filo che io terrò. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il po' discende, per aver pace coi seguaci sui. Amor, calcor gentil, ratto saprende, prese costui, della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor mi offende. Amor, canullo amato a mar perdona, mi prese del costui piacersi forte che, come vedi, ancor non mi abbandona. Amor condusse noi ad una morte, caina attende, chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fu il porte, quando io intesi quell'anime offense, china il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse che pensi. Quando risposi cominciai, oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolse a loro e parlai io e cominciai, Francesca, i tuoi martiri a lagrimarmi fanno, tristo e pio. Ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri, e quella me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Ma sa conoscer la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Noi laggiavamo un giorno per diletto di lancillotto, come amor lo strinse, soli eravamo, e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura, e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso, esser basciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia di viso, la bocca mi basciò, tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che in un spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men, così com'io morisse, e caddi come corpo morto cade. Questi versi famosissimi introducono queste due figure, ma in realtà Paolo non parla mai, Paolo piange e basta. Quindi Paolo non è che ci faccia una gran bella figura, nel senso che il dialogo è con Francesca. Ecco, come voi sapete, Francesca da Rimini, o come si chiamava Francesca da Polenta, andò in sposa in realtà al fratello di Paolo, Gianciotto Malatesta, che era un vecchio, storpio, e quando invece sembra che fu mandato Paolo a domandarla in sposa, perché le due famiglie, appunto, i Malatesta e i da Polenta dovevano sigillare un'alleanza. Ecco, sembra che questa ambasceria la fece Paolo, Francesca vide Paolo, accettò poi il matrimonio, peraltro era costretta ad accettarlo, ma poi di Paolo si innamorò, e l'amore, appunto, fu reciproco. Ecco, piccolo particolare, probabilmente Dante aveva conosciuto Paolo, perché Paolo era stato capitano del popolo nel 1282 a Firenze, e quindi un giovane Dante probabilmente era entrato realmente in contatto con lui. Altro particolare da non sottovalutare è il fatto che Dante, le parole dure che sono rivolte invece a Gianciotto Malatesta, cioè colui che uccise prima Paolo e poi anche Francesca, sono anche parole dure dovute al fatto che Dante era un avversario dei Malatesta, e quindi è un modo per mettere in cattiva luce la famiglia Malatesta. Ma in realtà il centro, almeno i due centri, che io vorrei sottolineare sono questi. Il primo è la componente dell'amore. Questi versi famosissimi, che culminano in quella appunto «Amor, canullo amato, amar, perdona», ecco, questi versi famosissimi sono una vera e propria summa, come voi sapete, del dolce stil novo. Le regole dell'amore, dettate poi da Cappellano, sono le regole che Francesca illustra, cioè Francesca dice «l'amore che ha il suo luogo naturale» sarebbe nel cuore gentile, prendendo spunto poi da Guinizzelli, «l'amore prese costui, cioè Paolo, della bella persona, cioè della mia bellezza, e questa bellezza mi fu tolta e il modo ancora mi offende, il modo in cui mi fu tolta ancora mi offende». In realtà alcuni commentatori la interpretano in un modo diverso, ma anche Sermonti dà più credito a questa interpretazione. «amore che nullo ha amato, amar perdona, cioè amore che quando colpisce una persona necessariamente richiede all'altra di essere amato, come lui si innamorò di me, io mi innamorai di lui, mi prese del costui piacersi forte che, come vedi, ancora non mi abbandona». Cioè questo amore è talmente forte che anche all'inferno l'amore non mi abbandona. nonostante tutto, nonostante la dannazione, questo amore continua a esserci ed è l'amore che li ha portati ad una morte. Ma, ultimo verso di questa parte che dice Francesca, Caina, cioè la parte dove vengono puniti i traditori della famiglia, attende chi a vita ci spense, cioè chi ci ha ucciso però andrà in una parte più oscura, più terribile dell'inferno, perché andrà nella Caina. Ecco, Dante viene colpito da queste parole, lo dice lui stesso, ma viene tanto più colpito perché Dante si dispecchia in lei. Dante, Francesca è Dante, Dante che prima di tutto era stato colpito da un amore terreno per Beatrice. Anche se poi lui sposò un'altra donna, ma il matrimonio non c'entrava niente nel Medioevo con l'amore, erano cose diverse che viaggiavano separatamente. L'amore di Dante, appunto, anche molto idealizzato, sicuramente Francesca, probabilmente altre donne, altre donne, perché c'è una canzone di Dante che è nelle rime, e sono rime che lui ha scritto durante l'esilio, Amore da che convenne, pur ch'io mi doglia, che è la canzone cosiddetta della montanina. Dante durante l'esilio, con Beatrice già morta, si era innamorato sicuramente, mentre era nel cosentino di una donna. Dante conosce bene l'amore e anche l'amore carnale, l'eros, e qui, attenzione però, è l'eros che deve essere scavalcato, perché Dante sta facendo un viaggio. Dante liquida, con questi versi, la sua appartenenza al dolce stil nuovo. Francesca è ancora, almeno in parte, una figura del dolce stil nuovo, ma questa figura viene superata da Dante. Dante deve fare i conti con se stesso, Dante conosce la forza dell'amore, ma se ne distacca, perché in realtà l'amore, poi Dante parla, non è più l'eros, ma è quello che in greco si chiama alpe, con una traduzione in latino, si chiama Caritas, è l'amore più alto, l'amore spirituale, e Dante ci sta assegnando proprio, in questo momento in cui si commuove così tanto, il suo passaggio dall'eros all'agape, perché questo amore terreno va superato, va superato per un amore più alto, per una forma d'amore più alto. Poi Dante chiede a Francesca una cosa molto precisa, cioè se voi riguardate i versi 118 e seguenti, la domanda di Dante è, ma dimmi al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi desiri? E qui è la domanda di Dante, come avete fatto a scoprirvi innamorati? È quel momento lì che Dante vuole sapere, non cosa è successo dopo, Dante lo sa cosa è successo dopo, è quel momento lì, come si è manifestato, scusate, come si è manifestato l'amore. E allora Francesca racconta, e prima fa una sorta di premessa, cioè dice, non c'è niente di peggio che ricordare il momento del dolore quando siamo stati felici, cioè in quel momento, quando i due hanno scoperto di essere innamorati, noi abbiamo provato la felicità, e adesso questa felicità è scomparsa per sempre, ma, attenzione, Francesca non si pinte di quello che è successo, Francesca paga il suo peccato, Dante non la perdona, Dante sa benissimo che Francesca è una peccatrice, ma nonostante questo prova pietà, proprio perché lui si rivede in questo, lui ha rischiato, anche lui, di essere soggiogato dalla passione, ma lui è stato capace di fare il salto. E Francesca racconta, e racconta che loro hanno scoperto di essere innamorati attraverso un libro, e questo non è un particolare di poca importanza. Cioè loro stavano leggendo appunto un racconto del ciclo Breton, l'amore tra l'Ancillotto e Ginevra, peraltro un altro amore extraconiugale. E nel momento in cui leggono del bacio tra i due, ecco che gli dice, quando leggemmo del disiato riso, che è bellissimo, è la bocca desiderata, no? È una meccanica, però ha anche una fortissima concretezza carnale. Ecco, quando noi abbiamo letto quel passo, ecco che anche noi abbiamo scoperto in quel momento di essere reciprocamente innamorati, che è il momento in cui l'amore si rivela. È il momento più bello, no? E ed ecco che, Francesca dice, da quel giorno più non vi leggemmo avanti. Cioè da quel momento in poi non andammo più avanti a leggere. Qui abbiamo due possibilità. O perché trovare un altro modo per impiegare il tempo, o perché in quel momento, come ci dice un po' la tradizione, in realtà vennero uccisi e non si andò mai oltre il bacio. Questo non lo sapremo mai. Forse quando incontreremo Francesca glielo chiederemo. Ma ecco, è quel momento lì. E anche questo è importante. Cioè perché è la letteratura che ha portato loro due al peccato. Che ha portato a riconoscersi e poi a peccare. Ecco, è la forza della letteratura. E Dante la conosce. Tant'è vero che Dante poi abbandonerà il dolce stil novo per passare a un'altra forma di poesia, che è quella che noi leggeremo stasera, che è quella della commedia, in cui l'amore diventa una forza che ci porta verso l'alto. Quindi, identificazione con Francesca, ma anche Dante marca una differenza con i dannati che troveremo essere il suo specchio. Lasciamo Francesca per un altro dannato. È Pier della Vigne. O Pier della Vigne al singolare, come volete. Pier della Vigne era il segretario, ma noi diremmo in fondo il primo ministro di Federico II di Svevia. Degli Svevi si parla molto, lo sapete, della commedia. Molti personaggi della famiglia vengono evocati nella commedia. Concentriamoci un attimo su questa figura. Pier della Vigne fu per molto tempo appunto il primo ministro, l'uomo di fiducia dell'imperatore. Ma poi, a un certo punto, cosa successe? Successe che Dante dà credito a questa interpretazione e l'invidia dei cortigiani dell'ambiente di corte, discorso che poi tornerà anche in un altro personaggio che incontreremo nel nostro cammino, l'invidia scatenò contro di lui una serie di calunni. Dante crede che queste fossero calunnie, che le accuse non fossero vere. Ecco, queste calunnie portarono Pier delle Vigne a fare un passo estremo e cioè a suicidarsi. Anche qui Dante non scusa Pier delle Vigne perché il suicidio, voi lo sapete, è considerato un peccato perché la vita secondo chi è cristiano, chi è cattolico non ci appartiene ma appartiene a Dio e quindi il suicidio è un peccato ancora di più era visto in questo modo nel Medioevo nel Medioevo non nell'antica Roma nel Medioevo era visto in questo modo. Ecco, quindi anche qui Dante in fondo ha subito le stesse calunnie quando fu obbligato e fu costretto all'esilio da Firenze ma il passo questo passo Dante non lo fece mai. Ecco allora anche qui in Pier delle Vigne c'è l'idea della fedeltà al proprio compito ma senza arrivare a soggiacere alla calunnia per arrivare a questo passo estremo. Vi leggo i versi in cui Dante parla di Pier delle Vigne. È Pier delle Vigne che parla in questi versi. Io sono colui che tenni ambo le chiavi del cor di Federico e che le volsi serrando e disserrando si soavi che dal segreto suo quasi ogni uom tolsi. Fede perdai al glorioso uffizio tanto che ne perdei li sogni e i polsi. La meretrice che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi putti morte comune e delle corti vizio infiammò contra me gli animi tutti e l'infiammati infiammarsi augusto che lieti onor tornarono in tristi lutti. L'animo mio per disdegnoso gusto credendo col morir fuggir disdegno ingiusto fece me contra me giusto. Per le nove radici d'esto legno vi giuro che giammai non ruppi fede al mio Signore che fu d'onor si degno. E se di voi alcun nel mondo riede conforti la memoria mia che giace ancora del colpo che invidia le diede. Ecco, questi sono i versi che lui dedica a Pier delle Vigne. Quindi, ecco qui, l'invidia e il discorso sull'invidia tornerà, lo sapete, no? L'invidia è per Dante uno dei peggiori mali che alberga nel mondo. L'invidia è il guardare male, il guardare male, proprio invidio, no? essere contro, guardare contro. Ecco, questo fatto l'invidia ha portato delle calugnie, quelle che Dante dice essere delle calugnie, come dicevano alcune cronache del tempo, alla morte. Anche qui, è un peccatore. Dante sente questa cosa vicino, perché il destino di Dante è stato molto simile, ma Dante non si suicidò e sopportò eroicamente nella sua visione l'esilio, ma di questo poi parleremo dopo, parlando di un personaggio centrale e finale della commedia. il terzo specchio di Dante è il più famoso ed è Ulisse. Voi sapete che Jorge Luis Borges parlò di questo Ulisse, specchio di Dante, doppio addirittura, dice Borges, di Dante. Certo, Ulisse è un personaggio complesso, perché non mi dilungherò troppo, nel senso che l'Ulisse di Dante non è l'Ulisse di Omero, è un'altra figura, anzi, l'Ulisse che noi conosciamo e che poi entra a far parte della cultura occidentale è proprio spessissimo l'Ulisse di Dante, cioè l'Ulisse che in realtà non torna a Itaca, non torna a Itaca, non completa il Nostos, non torna, ma, adesso lo leggiamo, prende e spinto dalla sete di conoscenza, va oltre le colonne d'Ercole, ma anche qui Dante si identifica e si capisce in alcuni passi in Ulisse, ma anche qui marcherà una differenza radicale con Ulisse, pur col fatto che poi la figura di Ulisse torna in realtà nella commedia, vedremo, anche in altri passi c'è un eco di Ulisse, e questo ci fa capire quanto la figura di Ulisse colpisca la fantasia e anche l'uomo Dante, vi leggo i passi che sono famosissimi ma val sempre la pena di rileggerli insomma. Dante vede dall'alto la valle dove ci sono queste fiammelle, lui viene colpito le vede tutte ma viene colpito da una fiamma biforcuta chiede a Virgilio perché è Virgilio che domanda a Ulisse Dante non parla con Ulisse perché come dice prima furgreci sono superbi lascia parlare a me dice Virgilio ed è Virgilio Virgilio il poeta latino che è l'intermediario tra il mondo antico il mondo greco e il mondo medievale di Dante e dice così lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando pur come quella a cui vento a fatica indi la cima qua e là menando come fosse la lingua che parlasse egitto voce di fuori e disse quando mi dipartì da Circe che sottrasse me più di un anno là presso a Gaeta prima che sia né alla nomasse né dolcezza di figlio nella pieta del vecchio padre nel debito amor lo qual dovea Penelope far lieta vincere poteron dentro a me l'ardore che io ebbi a divenire del mondo esperto e degli vizi umani e del valore ma misi me per l'alto mare aperto solo con un legno e con quella compagna picciola dalla quale non fui diserto l'un lito e l'altro vidi infine la Spagna fin nel Morocco e l'isola di Sardi e l'altre che quel mare intorno bagna io e i compagni eravamo vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dove ercole segnò i suoi riguardi a ciò che l'uomo più oltre non si metta dalla mandestra mi lasciai Sibiglia dall'altra già m'avea lasciata Setta o fratri disse che per centomiglia perigli siete giunti all'Occidente a questa tanto piccola vigilia di nostri sensi che è del rimanente non vogliate negare l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente considerate la vostra semenza fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza i miei compagni fece io si aguti con questa orazione piccola al cammino che appena poscia li avrei ritenuti e volta a nostra poppa nel mattino dei re mi facemmo ali al folle volo sempre acquistando dal lato mancino tutte le stelle già dall'altro polo vedea la notte il nostro tanto basso che non surgea fuor del marinsuolo cinque volte era acceso e tante casso lo lume era di sotto della luna poiché entrati eravano nell'alto passo quando napparve una montagna bruna per la distanza e parvermi alta tanto quanto veduta non avea alcuna noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che dalla nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto tre volte il fe girar con tutte l'acqua e la quarta levar la poppa in suso e la prora aire in giù come altrui piacque infine che il mar fu sovra noi richiuso ecco questi sono i versi i versi che dante dante dedica a ulisse e allora ulisse ulisse nel medioevo e per dante è prima di tutto colui che ha sete di conoscenza guardate i versi di dante sottolinano un aspetto anche ulisse dice dante ha lasciato gli affetti familiari stessa cosa che è successa a dante nel momento dell'esilio ha lasciato gli affetti familiari per rispettare la propria sete per ascoltare la propria sete di conoscenza e ed è andato verso il mare oltre le colonne d'Ercole in fondo anche il viaggio se ci pensate anche il viaggio di dante è qualcosa che va oltre i viaggi che pure c'erano già stati no i viaggi nell'oltre ma dante fa qualcosa di più dante giudica giudica personaggi veri personaggi storici papi quindi personaggi a lui contemporanei o poco a lui precedenti e quindi va oltre fa qualcosa che nessuno aveva mai fatto è giudica dante chi merita ad andare in paradiso ma anche chi è dannato all'inferno ecco quindi questo viaggio no in comune hanno il viaggio sicuramente anche se attenzione Ulisse è un esploratore e il suo viaggio è sempre orizzontale il viaggio di Ulisse è orizzontale verso occidente o poi quando tornò a Itaca secondo Omero oppure questo viaggio ultimo viaggio va verso occidente ma è sempre un viaggio orizzontale che però finisce con una verticalità ma dal piano del mare va verso il basso gli ultimi versi il viaggio di Dante è esattamente il contrario lui parte da un viaggio orizzontale che è il viaggio dell'esilio ma è un viaggio che ascende verso il cielo perché quella è la meta di Dante è arrivare nell'Empirio quindi Ulisse è un viaggiatore Dante e non scordiamocelo mai è un pellegrino è un pellegrino Ulisse non è un pellegrino Ulisse è colui che sprona i suoi compagni a valutare quella che è la loro essenza l'essenza dell'uomo cioè la conoscenza fatti non poste a vivere come bruti ma per seguire virtute e conoscenza la virtù la vita morale il coraggio l'amicizia tutti i valori umani e però anche la conoscenza teorica anche se Ulisse non è mai neanche in Omero un filosofo Ulisse è un altro tipo di personaggio viene prima dei filosofi ecco questo spirito e Dante lo capisce benissimo perché ce l'ha anche lui ma attenzione altra cosa Dante coglie anche l'uomo nuovo in fondo l'Ulisse di Dante è rivolto da una parte a qualcosa che c'è prima di Dante che è l'eroe classico ma a qualcosa anche che viene dopo Dante e cioè l'uomo dell'umanesimo l'uomo fatti la sete di conoscenza ma attenzione va oltre il limite il limite dato e questa è un'idea sia insita nel mondo greco il concetto di limite nel mondo greco i greci avevano terrore della peiron cioè di qualsiasi cosa non avesse un limite tutto doveva essere confinato enorme grande ma tutto entro i confini hanno il terrore della peiron assolutamente e qui cosa fa Ulisse Ulisse di Dante va oltre questo limite che gli dei avevano dato oltre le colonne d'Ercole e lui prende i compagni i suoi compagni che l'hanno seguito in mille battaglie in mille avventure li prende e li convince altro che orazione piccola questi sono pochi versi ma Ulisse va a colpire l'animo dei suoi compagni tant'è vero che lo seguono i miei compagni fece io sia guti cioè che è appena poscia li avrei ritenuti cioè non ero più in grado di tenerli ormai erano tutti animati da questo sacro fuoco della conoscenza e vanno e vanno ma questo volo è folle dice parola fondamentale in 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 Dante folle cioè qualcosa che va oltre il limite qualcosa che va contro c'è un eccesso no? c'è un eccesso e c'è questa idea del mondo greco chi va oltre il limite Prometeo Prometeo è un eccesso perché ruba il fuoco agli dei Ulisse in questa visione di Dante ha un eccesso perché va oltre questo limite va oltre questo limite Dante invece non andrà mai ci dice oltre questo limite perché il viaggio di Ulisse è un viaggio di esplorazione il viaggio di Dante è un viaggio guidato dalla grazia Ulisse non ha la grazia ecco perché sprofonda nel mare e quel alto mare aperto diventa nell'ultimo verso infine che il mare fu sovra noi richiuso fine fine del canto fine del viaggio fine di tutto silenzio non c'è più nient'altro ecco quindi anche qui Dante lo capisce bene comprende benissimo questa sete di conoscenza questa volontà questa anche gioia del viaggio in Ulisse ma tutto deve essere guidato dalla grazia e Ulisse non ha questa grazia ecco perché Ulisse è all'inferno per quanto Dante veda in Ulisse anche l'uomo nuovo uno degli uomini nuovi molti uomini nuovi che Ulisse vede in realtà poi sono all'inferno un altro personaggio di cui stasera non parlerò ma che è un altro uomo nuovo è sicuramente farinata nel decimo canto farinata degli uberti vabbè ma esula un po' dal discorso di stasera quindi non lo toccherò ma è lì un altro uomo nuovo e per farvi capire anche quanto rimanga eco di Ulisse anche in altri canti io ho scelto di leggere alcuni versi del purgatorio primo canto Dante e Virgilio sono sulla spiaggia del purgatorio e lì c'è il guardiano chiamiamolo così del purgatorio e cioè Catone Catone Uticense e Catone Uticense è una figura lo sapete benissimo estremamente importante e in realtà anche in questa figura Dante in qualche modo si rivede è una figura che sta a me tra il patriarca biblico come viene descritto la barba i capelli bianchi che poi è il contrario di Caronte e la figura del saggio classico Catone viene dal mondo classico non era neanche battezzato per di più era un suicida ma Dante nonostante questo lo mette lì a guardia del purgatorio altra infrazione che fa Dante la dottrina ecco quindi c'è questa figura questa figura e se vi ricordate appunto qui ci sono degli elementi però anche qui in comune a Dante e chi chi lo dice in realtà è nel momento in cui i due pellegrini cioè Dante e Virgilio vengono fermati da Catone Virgilio dice non viene da solo viene perché il suo viaggio è voluto dal cielo ma punta su un'altra cosa e dice Virgilio che parla e dice or ti piaccia gradir la sua venuta libertà va cercando che è sicara come sa chi per lei vita rifiuta tu il sai che non ti fu per lei amara inutica la morte ove lasciasti la vesta che al grandì sarà sicchiara e questo è la parte no Dante meglio Virgilio ma punta su un elemento nella figura di Catone che è la libertà come Catone tu capisci bene questa voglia di libertà perché tu addirittura per la libertà in realtà Catone per la libertà politica la libertà della repubblica rispetto all'impero ecco hai lasciato hai avuto il coraggio di lasciare la vita addirittura ecco anche lui che andò molto vicino infatti in qualche verso prima usa ancora la parola folle che era così vicino a perdere anche lui la sua libertà ecco anche lui sta cercando la libertà è chiaro che quella di Dante non è la libertà politica ma è la libertà spirituale ecco allora cos'hanno in comune queste due figure la libertà spirituale e la libertà politica ma c'è di più perché c'è un passo della Farsalia di Lucano in cui Lucano parla di Catone e dice queste parole questi costumi questa è la linea immutabile di condotta del duro Catone conservare la misura rispettare i limiti seguire la natura spendere la vita per la patria e ritenere di non essere nato per sé ma per il mondo intero ma queste sono parole che Dante attribuisce a se stesso anche il viaggio di Dante lo dirà poi soprattutto in molte parti della commedia pensate al culmino nei canti in cui lui parla con il suo avo cacciaguida ma anche il viaggio di Dante è un viaggio fatto per l'umanità non agisce solo per sé stesso come Catone che qui viene fotografato così da Lucano e quindi Dante che conosceva benissimo queste righe di Lucano ecco che in qualche modo disegnando questa figura di Catone sta parlando di sé stesso e poi gli altri versi che ho scelto del primo canto del Purgatorio sono i versi finali perché qui torna la figura di Ulisse scusate dice così proprio sono i versi finali del canto e dice venimmo poi insullito diserto che mai non vide navigare sue acque omo che di tornare sia poscia esperto qui vi mi cinse sì come altrui piacque oh maraviglia che quel che elli scelse l'umile pianta cotal si rinacque subitamente la onde la verse e qua c'è ci sono almeno due riferimenti molto chiari al canto di Ulisse che abbiamo detto prima tanto dice le acque che non avevano mai visto non avevano mai visto uomo no perché Ulisse ci è arrivato con i suoi compagni ma che poi sia stato capace di tornare indietro ma qui il riferimento a Ulisse è molto chiaro poi usa la stessa espressione come altrui piacque la volontà di Dio no eh là sono stati i dei Dio a punire Ulisse qua come altrui piacque essere sotto la grazia Dante viene circondato da questo da questo ramoscello che è simbolo del percorso penitenziale che Dante si avvia a fare in Purgatorio ecco che torna allora e marca ancora una volta la differenza con Ulisse come abbiamo visto prima altro personaggio allora Dante inizia il suo percorso stavolta proprio ascensionale in Purgatorio qua incontra delle anime come voi sapete il Purgatorio è la cantica più simile alla nostra vita a quello che si vive sulla terra scusa Piero cioè nel Purgatorio passa il tempo nelle altre due cantiche il tempo non passa uno perché la dannazione è eterna l'altra perché la beatitudine è eterna il tempo passa solo in Purgatorio tant'è vero che le anime devono trascorrere un determinato tempo in Purgatorio a purificarsi eccetera eccetera ecco spunta il sole le anime si stupiscono e si spaventano quando vedono l'ombra di Dante perché si passa dal giorno alla notte quindi è peraltro la cantica dove il mondo se volete la terra è sicuramente più presente è dove Dante peraltro si colloca lui stesso e quindi il Purgatorio è una cantica estremamente interessante da molti punti di vista è non a caso è proprio in questa cantica ad esempio poi lo vedremo con Uderisi da Gubbio si parla di arte ad esempio si parla di letteratura ma si parla anche di pittura si parla di una delle massime attività umane cioè l'arte quindi in Purgatorio qui siamo in realtà non siamo ancora in Purgatorio siamo nell'antipurgatorio e Dante nel sesto canto incontra vede un personaggio che si stacca da tutti gli altri di solito quando i personaggi sono isolati sono personaggi di grande importanza magnanimi per usare questa espressione dantesca e qui incontra Sordello d'Agoito Sordello d'Agoito era un trovatore che peraltro con Dante ad esempio anche lui condivide il fatto di avere girato molte corti la corte di Verona la corte di Treviso poi andò in Spagna in Francia quindi si si mosse insomma per per le corti peraltro Sordello d'Agoito è un scrive in provenzale in lingua doc e è considerato il maggior poeta provenzale è un un avventuriero che in realtà si trasforma ed era diventato un cavaliere ed era diventato un consigliere dei principi e anche in questa figura Dante si rivede e rappresenta l'amore patrio perché perché questa figura che si staglia proprio su questa all'inizio di questa salita ha un dialogo anzi in realtà poi il dialogo non c'è lì nei versi ma rappresenta l'amore patrio perché appena sente che Virgilio è di Mantua ecco che gli si fa incontro e cerca di abbracciarlo i due si abbracciano un abbraccio ovviamente inconsistente perché sono due anime e Dante viene tanto colpito da questo abbraccio che proprio nei versi successivi io non li ho riportati perché non è l'argomento della conversazione di stasera prorompe poi quella famosa invettiva hai serva Italia di Dolore Ostello nave senza nocchier non donna di provincia ma di bordello parte proprio dopo questi versi non parliamo del Dante politico perché davvero altrimenti arriviamo troppo lontano e stasera non è l'argomento della mia conversazione però l'amore patrio c'è e non è un caso che lui scelga sordello perché beh perché sordello aveva scritto un famosissimo allora un famosissimo compianto o lamento per la morte di Sir Blacaz andando a prendersela con quei principi che non hanno abbastanza coraggio e che dovrebbero fare un'operazione di eh cardiofagia cioè mangiare il cuore di Blacaz che è stato coraggioso peraltro voi sapete che ancora nel medioevo c'era questo rito della cardiofagia cioè di mangiare il cuore e ecco e se la prende con i potenti che non hanno questo coraggio proprio partendo da questo lamento che inizia così voglio piangere il signore Blacaz su questa semplice melodia con il cuore triste affranto e ne ho ben ragione perché in lui ho perso un buon signore e un buon amico e poiché tutte le nobile qualità sono scomparse con la sua morte il danno è tanto mortale che io non ho speranza che si possa mai riparare se non in questa maniera che gli si asporti il cuore e che ne mangino i baroni che vivono privi di coraggio perché del cuore avranno beneficio cioè spinge i baroni come li chiama qua ad agire andare avanti su questo Dante in quella famosa invettiva spinge l'imperatore a riprendere il comando a riprendere Roma che piange che è diventata vedova dice Dante beh ma lo spunto è proprio questo lo spunto è proprio preso da sordello da goito ecco perché quella figura è perché Dante vuole spingere allo stesso modo i potenti e questi sono i versi che Dante dedica a sordello è Virgilio che parla nei primi versi ma vedi là un'anima che posta sola soletta in verso noi riguarda quella ne insegnerà la via più tosta venimo a lei o anima lombarda che ti stavi altera e disdegnosa e nel mover degli occhi onesta e tarda ella non ci dice alcuna cosa ma lasciavane Gir solo sguardando a guisa di leon come si posa pur Virgilio si ritrasse a lei pregando che ne mostrasse la miglior salita e quella non rispose al suo dimando ma di nostro paese e della vita cinchiese e il dolce duca incominciava mantua e l'ombra tutta in seromita surse per lui del loco dove pria stava dicendo o mantoano io sono sordello della tua terra e l'un l'altro abbracciava ecco questo quindi questo gesto questa figura di sordello è una figura in cui Dante si rivede per molti aspetti in questo spingere i politici del tempo mettiamola in questo modo un po' contemporaneo ma anche nell'essere un uomo di corte essere un trovatore di essere un poeta Dante sicuramente si si rivede ecco proseguo proseguo parlando di una figura forse meno nota che è una figura che Dante incontra nell'undicesimo canto siamo siamo nella prima cornice dove scontano i loro peccati coloro che si sono particolarmente macchiati del peccato di superbia allora Dante condivide tre peccati con le anime non tutti tre e uno è proprio la superbia cioè Dante si autocondanna insomma quali sono i miei peccati dice Dante allora sono tre uno è la superbia che noi vediamo in questo undicesimo canto il secondo lo incontreremo dopo in un canto assolutamente centrale è l'ira Dante era un tipo piuttosto irascibile non era un tipo facile almeno questo ci dicono le cronache del tempo e terzo ma ne abbiamo già parlato quindi io non l'ho ripreso è la lussuria Dante è schiavo da morte quindi si deve liberare da questa schiavitù ecco questi sono tre peccati che Dante attribuisce a se stesso tant'è vero che con queste anime purganti Dante condivide la pena a cui loro sono condannate allora i superbi sono condannati a portare dei macini pesantissimi quindi a stare curvi e a guardare verso il basso tanto furono sprezzanti in vita quanto adesso devono guardare in basso Dante per parlare con queste anime e in particolare appunto con Oderesi da Gubbio in realtà incontra tre anime ma io parlerò solo di Oderesi da Gubbio deve chinarsi anche lui deve in qualche modo vivere la stessa pena con i penitenti ecco allora Dante Pellegrino che fa questo percorso proprio di penitenza che era Oderesi da Gubbio Oderesi da Gubbio era un miniatore forse il più bravo sicuramente uno dei più famosi ma attenzione lui era anche superbo della sua arte ed ha a Dante una grande lezione di umiltà proprio perché lui è stato superbo vi leggo i versi e poi vi dico qualcosa le prime parole sono di Oderesi le ultime gli ultimi due versi sono invece le parole che Dante dice dice di tal superbia qui si paga il fio e ancora non sarei qui se non fosse che possendo peccare mi volsi a Dio o vana gloria dell'umane posse con poco verde in sulla cima dura se non è giunta dell'età di grosse la vostra nominanza cioè la vostra fama è color d'erba che viene e va e quei la discolora per cui ella esce della terra acerba e Dante dice e io a lui tuo vero dir mi incora buona umiltà e gran tumor ma piani cioè Oderisi dice una cosa e no Dante lo loda tu sei Oderisi il migliore è il migliatore e lui dice sì sono stato superbo poi mi sono rivolto a Dio e Dio mi ha perdonato ma guarda che la gloria terrena è poca cosa dura poco la superbia che deriva o dal successo nell'arte tant'è vero che poi parla dei pittori Oderisi e dura poco dura poco come l'erba che poi secca scolorisce e poi secca ecco quindi attenzione Oderisi non sta dicendo che l'arte non ha un valore eterno no sta dicendo un'altra cosa sta dicendo a Dante guarda che anche tu appartieni a questo a questa sorta di ciclicità anche i poeti appartengono a questo prima ci sono stati i trovatori poi c'è stata la scuola del dolce stil novo poi come dire poi ci sei tu la grandezza di Dante ma anche tu finirai la tua gloria terrena poi in realtà noi siamo qua soprattutto a leggere Dante ancora adesso dopo 700 anni però gli sta dicendo la gloria terrena è una cosa che passa anche la tua quindi non devi essere superbo non devi gloriarti della tua abilità della tua grandezza poetica perché tanto prima o poi verrà qualcuno che è più grande di te che sarà più grande di te questa è la lezione poi le opere restano le opere hanno un valore eterno sia le opere di pittura pensate a Giocco Dante Patti o le opere di letteratura non a caso siamo qua ancora a leggere Dante ecco è questa la lezione e Dante dice capito la lezione sono stato superbo sono superbo ma ho fatto un bagno di umiltà ho capito perché qualcuno verrà e mi supererà perché tutto passa tutto viene superato e questo glielo dice Oderis da Gubbio prima vi parlavo dell'altro peccato che Dante attribuisce a se stesso che è l'ira sedicesimo canto del purgatorio è il canto centrale di tutta la commedia proprio centrale e qui Dante appunto nella terza cornice quella degli racondi incontra un personaggio anche molto misterioso ma che ha una grandissima importanza ma prima di parlare del personaggio poi vi vi leggo i versi vi voglio leggere i versi iniziali di questo canto perché gli racconti sono immersi in un fumo densissimo che non gli fa vedere nulla sembra di essere tornati un po' all'inferno il buio camminano ma sono ciechi non vedono niente sentono tant'è vero che loro si sentono Marco Lombardo che è il personaggio con cui poi lui parlerà sente Dante parlano ma non si vedono non si vedono e il canto inizia così buio di inferno e di notte privata d'ogni pianeto sotto pover cielo quant'esser può di nuvol tenebrata non fece al viso mio si grosso velo come quel fumo chi vi ci coperse né a sentire di così aspro pelo che l'occhio stare aperto non sofferse onde la scorta mia saputa e fida mi si accostò e l'omero mofferse siccome cieco va dietro a sua guida per non smarrirsi e per non dar di cozzo in cosa che il molesti o forse ancida mandava io per l'aere amaro e sozzo ascoltando il mio duca che diceva pur guarda che da me tu non sia mozzo allora condivide la pena anche Dante è accecato non vede niente e allora cosa fa Dante si accosta alla sua guida cioè a Virgilio cioè alla ragione l'ira è proprio l'opposto della ragione quando noi veniamo accecati dall'ira è questo no non vediamo più non sappiamo più usare la nostra ragione e qui Dante ci vuol dire ecco allora io ho peccato perché anch'io sono stato vinto dall'ira e la risposta è invece la ragione cioè Virgilio ecco perché si accosta a Virgilio si accosta a Virgilio e Virgilio lo guida gli dice non ti preoccupare ti conduco io come un cieco ma ti conduco io non staccarti da me e appunto fanno questo percorso a un certo punto c'è questa voce è una voce Marco Lombardo è una voce non lo vede e dice così Lombardo fui e fu chiamato Marco del mondo seppi e quel valore amai al quale a or ciascun disteso l'arco per montar su direttamente vai così rispose e soggiunse io ti prego che per me preghi quando su sarai e io a lui per fede mi ti lego di far ciò che mi chiedi ma io scoppio dentro a un dubbio se io non me ne spiego prima era scempio cioè semplice e ora è fatto doppio nella sentenza tua che mi fa certo qui e altrove quello che io l'accoppio lo mondo è ben così tutto diserto d'ogni virtute come tu mi sogni e di malizia gravido e coverto ma priego che mi additate la cagione si ch'io la veggia e ch'io la mostri altrui che nel cielo uno e un qua giù la pone allora tanto chi è questo personaggio di questo personaggio mi sa pochissimo probabilmente era molto noto al tempo anche questo è un uomo di corte è un uomo di corte perché ha esercitato l'arte politica ha sicuramente avuto delle abilità politiche e questo ce lo dicono le cronache del tempo era un saggio un sapiente non era un semplice consigliere era uno che stipulava paci per i principi che serviva insomma probabilmente uno dei caratteri della sua indole era anche l'ira era un tipo fumantino probabilmente ecco però era anche saggio perché io dico che Dante si rivede in lui perché a questo personaggio per molti aspetti misterioso Dante pone delle domande e delle risposte che dà Marco che sono centrali della commedia cioè gli chiede niente di meno qual è la causa del male nel mondo della corruzione del mondo cioè qui in questo canto adesso io non vi leggo gli altri versi ci sono almeno due temi fondamentali che poi sono legati tra loro uno è il tema del libero arbitrio centrale ma centrale anche nella teologia cioè Dante dice allora è vero quello che dicono nel mondo che il nostro destino è governato dagli astri e Marco Lombardo gli risponde gli astri danno l'impulso iniziale ma poi l'uomo ha il libero arbitrio secondo proprio il pensiero teologico che va da Agostino Tommaso e altri pensatori cristiani Pier Damiani insomma adesso c'è una lezione di teologia ma è l'uomo che agisce è l'uomo che agisce ma c'è di più perché questo tema morale si collega a un tema politico e cioè allora gli uomini vanno governati perché gli uomini non sono indotti al bene gli uomini attraverso il libero arbitrio possono anche sbagliare e allora ci devono essere delle leggi e ci deve essere qualcuno che fa applicare le leggi ma chi deve far applicare le leggi prima di tutto e Dante cioè Marco Lombardo dice ma è chiaro che è il pensiero di Dante beh da una parte c'è l'impero e dall'altro la chiesa e la chiesa non sta facendo il suo dovere polemica che corre in tutta la commedia ci siamo è la chiesa che è corrotta è il papa che ha sconfinato che vuole anche il potere politico ed è proprio Marco Lombardo che nomina la famosa teoria dei due soli cioè dice Dio ha voluto due soli con ruoli diversi l'impero e la chiesa certo che se uno invade il campo dell'altro ecco che si genera la corruzione ecco da dove nasce la corruzione degli uomini ecco da dove nasce il male proprio da questa confusione chiaro che Dante ce l'ha con Benefaccio VIII con la chiesa eccetera eccetera e pone queste parole in bocca a questo personaggio nel canto centrale di tutta la commedia nel momento in cui Dante dice io anch'io con tale il peccato di era e lo fa con questo personaggio della lussuria abbiamo già parlato prima con Francesca quindi non torno su questo perché è poi nel canto appunto dove Dante incontra i lussuriosi ancora lì parlerà ancora di poesia perché anche la poesia poi contribuisce a questa a questo peccato come dicevamo prima per quanto riguarda il ciclo arturiano e arriviamo all'ultimo personaggio e vado anche a concludere l'ultimo personaggio è un personaggio del paradiso Romeo di Villeneuve Romeo di Villanova siamo nel sesto canto altro canto politico è Giustiniano che parla l'imperatore Giustiniano niente poco di meno che l'imperatore Giustiniano sapete che il sesto canto tutti i sesti canti sono politici qua Giustiniano fa tutto l'excursus della storia dell'impero storia dell'impero i versi finali però proprio i versi finali sono dedicati lui imperatore sulla terra ma i titoli qui non contano più perché in paradiso tutte le anime sono uguali non è importante sulla terra se sei stato l'imperatore o come nel caso di Romeo sei stato un umile consigliere non conta niente la differenza non esiste più ecco e proprio Giustiniano indica a Dante la luce l'anima di questo Romeo siamo nel cielo di Mercurio è il cielo dove chi operò per il bene operò anche per la gloria e dice quello indica Dante quest'anima e dice e dentro alla presente Margarita luce la luce di Romeo di cui fu l'ovra grande e bella malgradita ma i provenzai che fecer contro lui non han riso e però malcalunnia qual si fa danno del benfare altrui quattro figlie ebbe e ciascuna reina Ramondo Berenghiere e ciò li fece Romeo persona umile e peregrina e poi il Mosser le parole biece a dimandare ragione a questo giusto che gli assegnò sette e cinque per dieci indi partisse povero e vetusto e se il mondo sapesse il cor che gli ebbe mendicando sua vita affrusto affrusto assai lo loda e più lo loderebbe è chiaro che in questa figura di Romeo Dante vede se stesso o una sorta di se stesso ideale diciamo così cioè Dante attribuisce a se stesso persone umile e peregrina povero e vetusto che se ne andò per accuse ingiuste lui dovette abbandonare Firenze Romeo abbandonò la Provenza quando aveva fatto del bene e addirittura la Provenza era direttata centrale perché le quattro figlie di Raimondo Beringhiere Raimondo IV Beringhiere avevano sposato dei re e quindi attraverso questi matrimoni la potenza della corte provenzale era aumentata ecco e Dante ecco qui che si rivede in questo esule che se ne andò e piccolo e ultimo inciso verso 141 dice mendicando sua vita a frusto a frusto che vuol dire letteralmente a tozzo a tozzo avete sicuramente presente nel canto di Cacciaguida a un certo punto Cacciaguida dice a Dante tu proverai siccome sa di sale lo pane altrui perché come voi sapete piccola nota culinaria voi sapete che il pane toscano è il pane che loro chiamano sciocco è senza sale e quindi tu sentirai com'è amaro il pane dalle altre parti perché gli altri usano il sale e come duro Calle lo scendere e lo salire per l'altrui scale ecco è la stessa immagine frusto a frusto è Raimondo scusate è Romeo e la stessa figura la stessa immagine è usata da Dante poi o meglio a Cacciaguida per illustrare l'ultima profezia dell'esilio ecco spero di aver fatto questo percorso insomma proprio Dante che si rivede in questi personaggi marcando anche la differenza con i personaggi infernali e sottolineando questa sua similitudine soprattutto con i personaggi del purgatorio per culminare in questo personaggio umile di Romeo grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti